e abbiamo sperimentato quest'anno una cosa nuova che è il cinema sulla spiaggia, sulla renina della marina di Caterina che ha avuto tanto successo, speriamo di ripeterlo e stiamo in corso, è un cammino che procede, abbiamo fatto una bella presentazione di un libro, abbiamo parlato di turismo, nonostante i tempi brevi abbiamo messo su, grazie anche a Marcello e a tutti quanti gli altri, una bella rassi inestiva, sono fiero di poterlo dire. C'è un pubblico delle grandi occasioni perché questa è un'orchestra, come diranno loro, particolare, un'orchestra di 30, vero? Siete in 30 quasi di più, tra professionisti, amatori, gli studenti che suonano strumenti a corta, che si pizzicano con il plettro, io l'aspetto come voi perché è un momento particolare, magico, uno dei miei più grandi amici costruisce dei violini, quindi qualche volta ho visto che cosa significa costruire un violino in particolare, che cosa c'è dietro la costruzione di un violino e sicuramente anche di una chitarra come di un mandolino. E la cosa magica è poi alla fine quando si fa la prova, arriva un maestro e da questo strumento nasce fuori un suono, uno di questi suoni che siamo pronti ad ascoltare stasera. Vi ringrazio, ringrazio voi, passo la parola a Marcello. Buonasera a tutti, solo un minuto per dirvi una semplice cosa. Questo è un concerto che richiede molta concentrazione, non distraiamoci, non guardiamo in alto, perché stasera già sono cadute 25 stelle, sono tutte quante qua e sono dirette da un'altra stella del un'altra stella del mattino. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie.